Presidente, quali sono le finalità di questa iniziativa camminando sul tratturo? Quella di valorizzare il turismo ciclistico, che è un'attività moderna, è la nuova frontiera del turismo, soprattutto per quelle zone che si prestano. Io ritengo che il nostro territorio, riscoprendo tra l'altro gli antichi tratturi, possa dare una mano allo sviluppo del nostro turismo. E' un ritorno al passato, cioè a vedere le vecchie piste dei pastori con una formula moderna, così un po' a metà strada? Beh sì, sicuramente si coniuga il passato con l'alta tecnologia, perché le biciclette di oggi, le mountain bike, sono super tecnologiche e sicuramente permettono l'accesso ad alcuni percorsi impervi che il tratturo presenta. La giornata praticamente si svilupperà in questo modo, si partirà dalla piazza di Montorio, da Largo Rosciano. Ci saranno due percorsi, uno lungo e uno un po' più soft, per permettere a tutti di partecipare all'evento. E a seguire partiranno i camminatori, che percorreranno dalla piazza di Montorio, entreranno nel tratturo, faranno tutto il tratturo a salire, usciranno nella statale 80 e faranno un ristoro lì vicino alla casa cantoniera. Quante sono state le adesioni a questa manifestazione? Le adesioni ancora devono essere completate. Fino adesso circa 350 persone da ogni regione d'Italia. Si è fatto un gran lavoro capillare tramite tutte le organizzazioni sportive locali dell'Abruzzo e anche delle regioni limitrofe.